Salve a tutti, dunque parlando di emozioni si esprime la possibilità di esprimersi al mondo la stessa etimologia del termine ha il senso di exmovere, mettere fuori quindi esporre una parte di sé al resto del mondo a volte esponiamo una parte di noi senza che il resto del mondo sia a guardare neanche un po' perché a volte esprimiamo emozioni, pensiamo al dolore che si esplica spesso in un pianto anche a dirotto senza che ci sia nessuno che guarda però esponiamo comunque dall'interno verso l'esterno una nostra emotività parliamo oggi di una certa emozione che consiste nella rabbia la rabbia la rabbia è una emozione tra quelle stabili e ricorrenti notate, notabili da sempre permanentemente presente in tutte le culture, tutte le società, a tutte le latitudini ve ne sono altre sei qualcuno dice altre otto l'aggressività, la rabbia, il dolore, la tristezza, la gioia queste sono alcune emozioni da un punto di vista sociologico, antropologico studiate approfonditamente poi la psicologia ha tentato e c'è riuscita direi a collocarle in un andamento personologico complesso, individuale e inframmezzato da circostanze di vita assolutamente soggettive comunque la rabbia, torniamo alla rabbia la rabbia è generalmente un aspetto che precede una forma di aggressività l'aggressività quindi quindi è preceduta dalla rabbia e costituisce una valvola di sfogo della rabbia stessa non possiamo fare a meno delle nostre emozioni tanto meno dell'aggressività per quanto spesso venga usata con accezione negativa meno che meno della rabbia perché non possiamo farne a meno? perché sono reazioni all'ambiente e le reazioni all'ambiente ci sono assolutamente indispensabili non possiamo fare a meno di avere reazioni all'ambiente non siamo animali passivi ammesso che ne esistano sulla faccia della terra siamo animali che interagiscono con il proprio ambiente che lo toccano che cercano di modificarlo pensate a ognuno di noi con le altre persone del proprio ambito familiare, lavorativo, sociale, nazionale noi tocchiamo le altre persone nel senso delle loro vite le loro storie di esistenza gli altri toccano noi ognuno tenta spesso in modo inconsapevole di variare le esistenze proprie e quelle degli altri prodomo a favore a favore della propria personalità quindi che vi sia la rabbia è auspicabile non solo è indispensabile è necessario ed è bene che vi sia così come è bene che ci sia l'aggressività l'aggressività deve essere come la rabbia naturalmente contenuta in una possibilità di comportamento relazionale che permette la convivenza tra gli uomini questo breve aspetto descrittivo di questa emozione rabbia ci serve per capire un po' meglio la nostra rabbia la nostra rabbia che spesso non riusciamo a tollerare noi stessi è effettivamente necessaria alla nostra stessa vita come si può però controllare la rabbia naturalmente immaginando per esempio che non possiamo essere rabbiosi quanto vorremmo sempre in ogni momento in cui vorremmo quindi dobbiamo calmerare contenere certe emozioni e questo va bene va benissimo abbiamo anche la pazienza però e la costanza di guardarci dentro le emozioni vanno viste non dobbiamo allontanarci dalle nostre emozioni dobbiamo guardarcele troppo facilmente con grande probabilità cerchiamo di far finta che non esistano e se esistono ci sono e non possiamo far finta di non vederle salve a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti